Questo video riguarda i migliori 3 aspirapolvere con sacco. Il vincitore della qualità è il Philips FC8243. L'aspirapolvere Philips 2000 offre una pulizia perfetta, massime prestazioni grazie al motore da 900 W potente ed efficiente per pulire tutta la casa. Con il 99,9% di polvere raccolta asterisco e il raggio d'azione di 9M otterrà i risultati di pulizia sempre perfetti. Il filtro Allergy completamente sigillato cattura polline, peli di animali e acari della polvere con pratici sacchetti facili da smaltire. Aspirapolvere multiuso perfetto da usare su pavimenti duri e tappeti. Pulizia impeccabile su una vasta gamma di superfici. Aspirapolvere, spazzola di aspirazione multiuso, spazzola 2, in, 1, bocchetta a lancia, filtro Allergy, filtro del motore, S-Bag Classic Long Performance. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Rowentaro 3950. Migliore aspirazione su pavimenti duri, nonché A per l'efficienza energetica e A per la classe di emissione di polvere. Motore Effitec particolarmente durevole con risparmio energetico 750 W e la potenza di un motore da 2000 W. Grazie alla spazzola integrata per mobili non è necessario spostare gli accessori. Capacità 3L, piccolo, compatto e leggero. Potente aspirapolvere con 3X a classificazione sull'etichetta energetica. Il dispositivo presenta nella sua classe di prezzo le valutazioni ideali in termini di efficienza energetica. Il filtro EPA 12 lavabile raccoglie più del 99,5% di tutte le particelle per un rilascio d'aria più pulito. Il filtro ad alta efficienza garantisce una classe A, adatto per pavimenti duri e tappeti. Aspirapolvere Rowenta Compact Power RO3950 ad alte prestazioni blu, bocchetta per pacchetti, bocchetta per pavimenti, tubo telescopico in metallo, bocchetta per imbottiture. Il vincitore del premio è l'Overt 70. Il potente aspirapolvere Overt Helios, offre prestazioni estreme su tutte le superfici, anche sui tappeti, con un notevole risparmio energetico, fino al 50%. Ottimo per chi soffre di allergie, l'aspirapolvere a train over, è dotato di filtro EPA lavabile, in grado di filtrare e intrappolare anche le particelle di polvere più sottili. L'aspirapolvere Overt Helios unisce potenza d'aspirazione e silenziosità per adattarsi ad ogni tua esigenza. L'aspirapolvere a train Overt Helios è dotato di una pratica spazzola con morbide setole naturali, ottimo per la pulizia dei tuoi pavimenti in legno e laminati. Rimuovi facilmente i peli dei tuoi animali domestici da divani, letti, sedie e tappeti grazie alla mini bocchetta turbo. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.